La cosa più importante per la nostra cucina è il prodotto, è la materia prima nel rispetto del territorio e della stagionalità. Questo lo facciamo a Imola, al San Domenico, dove ovviamente il piatto è ricercato, è un pochino più elaborato. Invece trasportiamo qui al Forte Village una cucina più semplice, immediata, fresca, proprio nella filosofia anche della stagione, dell'estate. Cercando ovviamente di portare qua la nostra regione, quindi le paste fresche, il nostro famoso uovo e raviolo, oppure i garganelli, oppure un risotto. E poi integriamo con la tradizione della cucina italiana, vogliamo che il prodotto e la cucina italiana siano protagonisti anche qua. Il nostro menù è composto da piatti della tradizione italiana, ovviamente con un occhio di riguardo alla nostra regione, l'Emilia Romagna. Quindi su tutte le paste fresche tirate al mattarello, come i garganelli con un ragù di crostacei e di molluschi, perché il nostro mare, anche qui in Sardegna, ci offre prodotti fantastici. E poi i pesci, quindi il branzino, quindi il maialino, quindi tutti questi prodotti della tradizione italiana, dove ovviamente la protagonista è sempre e solo la materia prima. Il piatto che più rappresenta a me, il San Domenico, comunque la storia del ristorante, è sicuramente l'uovo e il raviolo, quindi un piatto immancabile nei nostri menù, sia al ristorante che in giro per il mondo, per l'Italia e per il mondo. È una pasta fresca tirata al mattarello con un ripieno classico della nostra regione, quindi ricotta e spinaci. Viene inserito questo tuorlo d'uovo, quindi è qui la particolarità, e in cottura rimane fluido, rimane semicrudo. E quindi si va ad amalgamare poi con il ripieno, col parmigiano e col tartufo che vengono messi sopra. Quindi un vero e proprio mix di sapori, un'esplosione di gusto, tutto all'interno di questo raviolo. Grazie a tutti.